Partiranno questo pomeriggio presso l'ospedale civile di Agropoli le vaccinazioni pediatriche sulla fascia d'età dai 5 ai 11 anni ad opera dei pediatri di libera scelta che hanno manifestato la propria disponibilità. Le prenotazioni sulla piattaforma soresa saranno necessarie per le vaccinazioni pediatriche 5 e 11 anni da parte dei genitori che vorranno vaccinare i propri figli. Queste ultime verranno effettuate presso l'ospedale civile così come ci spiega i nostri microfoni responsabili amministrativo per le vaccinazioni del distretto 70 Raffaele Meola. Procederemo vaccinando circa 20-25 bambini per ogni seduta partendo da giovedì 16 dicembre e venerdì 17 dicembre in linea con tutti gli altri centri della regione Campania per poi procedere orientativamente tutti i martedì della settimana. Vaccineremo non presto il nostro punto vaccinale città di Agropoli bensì presso l'ospedale civile di Agropoli a Contrada Marrota. Come ho già detto vaccineremo una ventina di bambini al giorno perché la procedura è leggermente diversa. Per i più piccoli per un vaccino sicuro ed efficace è un aspetto fondamentale quello di vaccinare la popolazione più piccola della nostra società. Come stiamo vedendo dagli ultimi contagi che stanno coinvolgendo purtroppo questa fascia d'età. Quanti bambini si sono registrati presso la piattaforma? Nell'ambito Agropoli quindi 13 comuni che afferiscono al distritto sanitario 70 ambito Agropoli una quarantina per ora. Non moltissimi ma nemmeno pochi considerato che è possibile prenotarsi solo da una settimana. Ribadisco che per vaccinare il proprio figlio il genitore deve effettuare la prenotazione sulla piattaforma Soresa come ha fatto a suo tempo per se stesso. Una volta effettuata la prenotazione saremmo noi a predisporne la convocazione attraverso un'email e un sms.